Tante controversie tra cristiani ereditate dal passato si possono superare mettendo da parte ogni atteggiamento polemico o apologetico e cercando insieme di cogliere in profondità ciò che ci unisce, e cioè la chiamata a partecipare al mistero di amore del Padre rivelato a noi dal Figlio per mezzo dello Spirito Santo. Lo ha ricordato Papa Francesco nell'Omelia dei Vespri che nella Basilica di San Paolo fuori le mura hanno concluso la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani. Nella liturgia ecumenica che ha visto presenti anche il metropolita Gennadios, rappresentante del patriarcato ecumenico di Costantinopoli, il vescovo anglicano David Moxon, rappresentante Roma dell'arcivesco di Canterbury e molti rappresentanti delle diverse chiese e comunità ecclesiali cristiane, il Papa ha sottolineato che l'unità dei cristiani non sarà il frutto di raffinate discussioni teoriche nelle quali ciascuno tenterà di convincere l'altro della fondatezza delle proprie opinioni. Perché dobbiamo riconoscere che per giungere alla profondità del mistero di Dio abbiamo bisogno gli uni e degli altri, dato che per opera dello Spirito Santo siamo diventati una cosa sola con Cristo e nella misura in cui ci avviciniamo con umiltà a Lui ci avviciniamo anche tra noi. Tutti siamo chiamati ad essere evangelizzatori ha concluso Papa Francesco e per farlo bisogna evitare di chiudersi nei propri particolarismi superando ogni forma di proselitismo o tentazione di competizione perché siamo tutti al servizio dell'unico e medesimo Vangelo. E in questo momento di preghiera per l'unità vorrei ricordare i nostri martiri di oggi. Loro danno testimonianza di Gesù Cristo e vengono perseguitati e uccisi perché cristiani, senza fare distinzione da parte dei persecutori, della confessione alla quale appartengono. Sono cristiani e per questo perseguitati. Questo è, fratelli e sorelle, l'ecomenismo del sangue. L'ecomenismo del sangue